Un'altra meravigliosa scoperta nel Parco archeologico del Colosseo, nell'ambito di un progetto di studio e ricerca da alcuni ambienti di una lussuosa domus di età tardo-repubblicana, di cui erano state scavate alcune strutture murarie nel 2018 e un tempo esistente esattamente nell'area in cui, in età augustea, vennero costruiti gli orre agrippiana, i celebri magazzini lungo il Vicus Tuscus, strada commerciale che collegava il porto fluviale sul Tevere e il Foro Romano, costruiti dal genero di Augusto, Marco, Vipsanio, Agrippa. Tra i magazzini e le pendici del Colle Palatina è venuta alla luce una domus che si sviluppa su più piani, probabilmente articolata a terrazza e caratterizzata da almeno tre fasi edilizie, databili tra la seconda metà del II secolo a.C. e la fine del I secolo a.C. Distribuiti intorno a un atrio giardino, la domus presenta, quale ambiente principale, lo Specus Estivus, una sala per banchetti che imita una grotta utilizzata durante la stagione estiva e originariamente animata da spettacolari giochi d'acqua grazie al passaggio di alcune fistule e tubi in piombo fra le pareti decorate, a rendere eccezionale la scoperta e il rinvenimento in questo ambiente di uno straordinario rivestimento parietale in mosaico, cosiddetto rustico, che per complessità delle scene raffigurate e per cronologia è privo di confronti.